Come risolvere il problema riguardo a Discord che quando vai così ad accendere il PC si avvia così a Windows si avvia anche Discord assieme al sistema operativo. Quindi per impedire questa cosa puoi sempre andare sul tasto destro sul logo Start, qua tasto destro sopra, vai direttamente su gestione attività, vai su app di avvio. Qui ci sono tutte le applicazioni che si avviano quando vai ad accendere così il PC e c'è anche quella di Discord. Eccola qua di Discord, tasto destro sopra, vai disabilita, una volta disabilitato chiudi qua e riavvia il sistema. Se non dovesse funzionare in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma PC Manager, ottimo programma anche per migliorare le performance del nostro computer. Qui c'è scritto Startup, Startup Apps ed eccole qua. Qui puoi disattivare le applicazioni che si avviano quando accendi il PC e se esce anche Discord puoi disattivarla qua sopra. In questo piccolo tutorial ti ho spiegato come impedire l'avvio di Discord quando accendi il PC, quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere questo problema, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Ciao!